Mamma mia Nooo 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 150 player si affrontano Solo uno è il vincitore Di 100.000 dollari Ti prego un italiano, ti prego Anzi, è impossibile che noi italiani rivinciamo Nooo, ma che È impossibile che rivinciamo Kong fighta Kong fighta all'inizio Nooo Già giù Kong Brutto bro Però hai visto, lui ha già fatto la tv Adesso nessuno muore Adesso nessuno muore Tanti con la tv, eh Primo italiano Vediamo Subito Potrebbe essere la prima eliminazione Anche Savi giù Anche Savi giù Anche Savi giù Andiamo subito a guardare Savi dopo Cazzo Oddio Sto culo anche che vale 100.000 euro Mamma mia Ti stai giocando un culo che ha 100.000 euro 100.000 euro Fuori 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 Savi Qua Al Gulag Kong è purtroppo fuori Buono sto lato Gulag è da 100k per Savi Bravo Savi Bravo La prende No Savi fuori Bello L'autoressa è bello Guarda l'autoressa è bello Io non li guarderei però perché sono grefa Però oh ma avete rotto il cazzo che dite che porto sfiga ragazzi eh Mi avete proprio frantumato i coglioni Però non li guardiamo perché porto sfiga veramente Allora metti Call of Duty Sì aspetta Fammi li crefa tutti Aspetta Giù che c'è Guardo grefa Aspetta Però è morto veramente Eh oh C'è troppo ansia Mi mettono l'ansia bro Un attimo Nico Blitz la gioca a bordo safe eh Ah È lontana e chiude Secondo me chiude Verso oil questa È quella lì che chiude a metà Gi c'è una bella position eh Gi non è male qua eh Posso dirti che Gi c'è una bella position Gi c'è una bella position Però chiude un po' più sotto da lui Sì Passi un attimo pure Blitone che gira Senti che silenzio però Mamma mia Mamma mia La tensione Cecchino vai giù vai giù Però sta maglia è una merda eh C'è uno sotto No Non ci vedo Mamma mia Gi sta ancora qua Ha preso un'altra Un'altra stecca di cecchino Mamma mia Oddio Da fuori è brutta eh Eh sì Da dentro io Me la ricordavo molto più Io perché parlavo Cioè Da fuori è brutta La vede Cioè nel senso Che cazzo è successo Che ha fatto? La gicola moto Ah pensa che ha usato la moto 216 persone ancora in vita Jesus è bloccato qua Jesus ha una bella position A me piace la position Il positioning di G Però Poi ci deve spostare Però non è male Però un cecchino qua sei morto eh Che è successo? Mamma mia No 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 Tommy bifo allo The hometown hero The lad back at it again The prodigal sun Looking for a hundred thousand dollars After an impressive third place finish He's got to get through methods Bravo Mamma mia Devo riguardare la safe Io comunque forse prenderei Questa casa qua Eh Oh No Lo sai pure Guarda il palazzo angolare bro Il palazzo angolare col doppio piano Bro ti metti là Vita di la clutch bro Devi vendere il palazzo hydro Vai Ma hai capito quale Sì ho capito Quello lì davanti al benzinaio No Bravo Quello là Quello là Quello è forte Eh quello è forte Quello è strong Destra di Oh Ok Nessuno si spara Nessuno si spara Mamma mia Insomma Ho con nessuno Ma che Io ne vado Mi sta attivando Io ne vado la vita Com'è possibile Hai visto pure tu G è buono G sta buono Fermo qua Questa fronte Fermo qua No Nico giù 100.000 dollari di Gulag Adesso per Blade Anche vincitore dell'anno scorso Vediamo Se Si conferma l'RNG Vabbè Per forza C'è per forza Ma Blade non è Ha visto Ha visto Vuole che c'era A destra No Per caso Tre macchine sotto G Ma cosa so vedendo Provo Si dai Non è Prospai Come la via Eh ma per forza Bro Oh cazzo 100.000 dollari Chi vince G si scalda il collo Signori Attacca il grappolo Un bombardamento di piscine Potrebbero farlo scappare Con la moto scappa Guarda quello Guarda quello Sta ridendo ma È una risata pazza Questa C'è una cosa tipo Nervosa Spandi calma Ragazzi Spandi calma Eh le macchine Sono un problema Bro Eh più che altro Dipende anche Dove si chiude Perché se si chiude Tra i palazzi Anche no In open In open Deve prendere Deve prendere Un attacco di precisione Deve andare Lascio pallo 7 secondi alla chiusura Della safe Spandi i cuori per G Dammi un po' di energia G spandi i cuori Regà Ecco Full open Full open Qua se c'è la macchina È un bombardamento Deve prenderlo Deve andare sopra Deve andare sopra Deve andare sopra Arancione Sopra? Arancione Il tubo Ah no però Se col cecchino Gli rompono il culo Deve prendere Deve rubare la tv a qualcuno O casangolare Casangolo Ti ammazzano in 400 È a caso raga Totalmente a caso Sì Però magari cerchi di prendere Qualche macchina parcheggiata E Si riesce Però magari non ha fatto La tannica di benzina Qua con una macchina Si riesce a prendere Questo con la macchina Niente ragazzi Però vedi che bombardano Tutti si tengono L'attacco all'ultimo Però eh Certo Si muove adesso Giustamente Ok casa angolare Detto qua Buono Buono E andare là sopra G A questa dopo Sai meglio di me Lo sai meglio di me Oh a sinistra Non l'ha visto Non l'ha visto Non l'ha visto Buono 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 Staci Fermo qua No 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 Tutto lui Eh ma 60 player Pericoloso eh Quello dopo è bello eh Però prima deve sta qua Perché se va Quello dopo poi lo Spara a caso Fagli andare via Bravo 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 Fagli andare via Guarda la safe Guarda la safe Nade Oh Mi ha sentito Tranquillo tranquillo C'è uno sotto eh Basta basta C'è 97 colpi Adesso devi cominciare Andar avanti Non troppi G Non troppi Quella è ancora unsafe Se riesce Secondo me riesce Se sale a salire eh Se sale Sta sparando troppo Mi dico Libero provaci Adesso mi è più venuto Dico tanto Dico Qua a destra Perché è esterna La scala La a destra Qua a destra È esterna Non andare Non entrare Non entrare Oh Buona buona Usala per te Fermo qua Stai super a destra C'è già uno C'è già uno Dici? Sì 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 C'era uno Oh man Voleva chiuso? No Ah era sotto ovviamente Zio Devo rimanere sotto Wow Non è morto il bombardamento Redman è vivo Askers Il bravo Swayge Ma fanno Isoga Clamp Non vedi italiani Purtroppo Almond Questo side Aidan Isoga Cabrali Calmond Redman c'è Redman c'è Redman c'è Isoga lo butta giù Aidan Zsmit Aidan avanza Oh Dio Zsmit Quarto parti Zsmit Spazza L'Esoga fuori però Zsmit Zsmit S'è morto Redman Isoga Redman rimane fuori Redman Isoga 8 kill 8 kill Isoga Sale su Sale su Bro Questa è la giocata che potrebbe Lasciagliela Però questa è una bella giocata Noo Il bombardamento Uo 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 Prendi quello per volare Prendi quello per volare bro Stai sopra e fuori via Spazle Skullface Oddio Oddio Redman Redman Mouset a sera Mi sentirei male Quattro giocatori Quattro Redman bro No No l'ha visto Skullface L'ha visto Uno contro uno Contro uno No Non lo vede Non lo uccide apposta Non lo uccide apposta Skullface Non lo uccide apposta Non lo uccide apposta No Skullface Skullface L'aveva detto 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 al video L'aveva detto L'aveva detto E' vero L'aveva detto Vinco io L'aveva detto Bello bello Bellissimo Bravo Redman secondo Ma l'ho setta assieme Questo è grosso Dici a dire che siamo piccoli Noi gamer Guarda qua Ok Vediamo se Skullface Sub Che gli devo dare mille god points O regalare mv3 Vediamo La sera Offre Skull